Raccontare la mia esperienza con Bentley vuol dire parlare di ormai dieci anni di storia. È stato un incontro quasi casuale, ma un incontro estremamente importante perché ha cambiato un po' quello che è la mia vita all'interno del mondo del design e il modo di progettare. Perché il mondo di Bentley è un mondo affascinante, un mondo elegante, è un mondo fatto di heritage, di storicità, di velocità, di forme, di funzione, di dettagli, di materiali. Io essendo un grande appassionato di automobili, soprattutto automobili da forza, non potevo che accettare questa sfida. Il Seno del Mobile 2024 da parte mia rappresenta un altro punto importante di arrivo con questo brand e presenterò un nuovo letto e una nuova seduta che riguarda sia la poltrona che la sedia. La caratteristica del letto è quella di aver lavorato su un pannello apparentemente molto semplice, ma in realtà molto particolare perché le due ali che escono, diciamo, lateralmente a destra e a sinistra, che sono, ripeto, in legno, hanno all'interno tutta una serie di fresature, di lavorazioni, con queste lame di metallo che danno caratteristica al prodotto e lo rendono sempre più Bentley. Mentre nella parte centrale lavoriamo con pelle e con tessuto, anche qui con delle decorazioni in verticale che vanno a delineare quelli che sono, diciamo, gli elementi caratterizzanti di questo brand all'interno di alcuni dettagli dell'auto. Mentre le sedute sono delle sedute molto generose, molto morbide, morbide in senso formale, non solo dal punto di vista dell'ergonomia, e sono sospese con queste gambe molto disegnate, con questi raggi, e quindi il raggio che c'è all'interno della seduta viene ripreso nella struttura a terra. La caratteristica è quella di avere poi nelle fasce laterali degli elementi in legno come se fossero parti del sedile dell'auto, quindi una lavorazione veramente artigianale, quasi maniacale, condivisa dopo un anno di lavoro insieme al centro ricerchi di Bentley e quindi è un lavoro che viene sempre fatto a quattro mani, non è l'autocelebrazione del designer, ma in questo caso è un lavoro che viene fatto con il gruppo in Italia e con la condivisione poi in Inghilterra con il gruppo Bentley.